Sicuramente sono mezzo contento per la meta perché è un po' amara visto il risultato che si è venuto a crearsi nella partita. Penso che abbiamo dato tanto in campo, tutti quanti, anche in attacco abbiamo fatto vedere belle cose e speriamo di riportarle nelle prossime gare e anche subito con l'Inghilterra la prossima settimana. Sicuramente abbiamo fatto belle cose oggi, soprattutto in attacco. Dobbiamo cercare di limitare un po' gli errori nel breakdown, abbiamo perso un po' di palloni e quindi di essere un po' più cinici quando arriviamo nei 22 avversari perché dopo abbiamo visto che le qualità le abbiamo anche per segnare. Quindi manca un po' di dettaglio e sicuramente questa settimana lavoreremo con lo staff per l'Inghilterra.